Si abbassa la curva dei contagi e cambiano le regole per ciò che riguarda l'utilizzo delle mascherine all'aperto, la capienza degli stadi e il green pass con la sua durata. Per le mascherine da oggi, a prescindere dal colore della regione, non sarà obbligatorio portarle in zone all'aperto. La norma prevede che tuttavia i dispositivi di protezione dovranno essere pronti all'uso, dunque anche conservati in tasca nelle occasioni in cui nei luoghi affollati, nonostante l'aria aperta, ci siano degli assembramenti. Resta vigente l'obbligo di portarle al chiuso. La curva dei contagi si abbassa e dunque sale anche la capienza negli stadi per il 75% per le strutture all'aperto e il 60% per quelle al chiuso. Nessuna novità per ciò che riguarda l'utilizzo delle green pass è diventato di durata illimitata soltanto per alcune categorie, per ciò che ha completato la terza dose di vaccino, per chi ha una dose di vaccino più richiamo, per chi è guarito e ha una dose di vaccino più richiamo, per chi ha avuto due volte il covid è una dose di vaccino e per chi ha due dosi di vaccino ed è stato contagiato.